Tredicesima stagione della Voce di Ogni Strumento, il festival, l'iniziativa organizzata da Agimus e Grosseto che coinvolge le istituzioni. Primo concerto al Savoia Cavalleria. Finalmente ripartiamo e ripartiamo con una stagione tutta intera fino a giugno e questo per noi vuol dire una continuità. Grandi nomi anche quest'anno nel parterre dei musicisti. Partiamo oggi con un giovanissime musiciste, due pianiste eccezionali con la nostra orchestra vivace, l'Orchestra dei Giovani in città di Grosseto e diretta dal maestro Merone. Proseguiremo a dicembre con la meravigliosa Antonella Ruggero. Continuiamo poi a gennaio con uno spettacolo che si chiama Anni Verdi, il nostro amatissimo Alessandro Riccio al Stormo a Marina di Grosseto. A febbraio torniamo al Teatro Moderno con uno spettacolo veramente unico, i Gudesman e io e l'orchestra sinfonica della Toscana. A marzo Stefano Fresi con la favola e musica di Pierino e il Lupo. L'intero ricavato sarà dato al Meier. Ad aprile festeggeremo un po' di anniversari, i 250 anni della finanza, i 100 anni della morte di Puccini, i 20 anni dell'Accademia Sciolti e ovviamente alla Guardia di Finanza faremo un concerto lirico dedicato a Puccini. A maggio alla Questura con la bravissima Carima insieme a Coco Cantini e Piero Frassi. A giugno concludiamo a Follonica al reparto di biodiversità dei Carabinieri con il grande ritorno di Nello Salsa e un omaggio a Morricone insieme alla nostra orchestra sinfonica. Come ogni anno anche quest'anno ci sono le associazioni con noi e sono beneficiari di parte del ricavamento.